bella a tutti ragazzi e benvenuti in un altro video della pfl qui con me c'è corvix bella a tutti e l'emeraldo bello è bella quella roba lì allora ragazzi oggi siamo su una custom map ovvero the island of junara giamaica e più o meno sperando allora ragazzi sostanzialmente si parte da questa cosa qui dove i cartelli diciamo che li abbiamo tradotti allora praticamente ragazzi questa qua è una custom map diciamo un adventure praticamente noi cominciamo da questa stanza qua vedete è stata piena di tnt e lana c'è cazzo fa non rompere la tnt comunque adesso andiamo a leggere questi cartelli andiamo a leggere questi cartelli e vedremo un po' quello che i nostri amici inglesi hanno da dirci allora vediamo un po' benvenuto nella sky survival the island of junara leggi everything cazzo mi piace qualsiasi cosa non è il forum prima di iniziare prima di giocare prima di giocare la prima cosa che devi fare è muovere questa leva qua aspettando vero per attivare il il dato come che si chiama il meccanismo tnt tnt che esploderà nel canne circa 13 secondi da quando abbiamo tirato la leva quindi velocemente dobbiamo prendere tutt'è la cesta cesta che sono circa 5 e scendere e buttarci nel buchetto in questo buco e colpiremo l'acqua ok adesso aspetta nemmeno da tanti un attimo prima di tutto le regole quale sono e allora le regole sono 5 regole e sostanzialmente non citare tutto qua allora no aspetta aspetta le leggo io che c'ho il forum davanti allora le regole sono che non me ne ricordo allora non usare nessun tipo di cheat puoi usare soltanto mod come mo creators la more creeps e la weirdus poi gioca in modalità semplice cioè facile e non cambiare a pace full sempre non spawnare items non provare a usare cheat e non saltare nel void per recuperare fame o vita e divertiti dai ripiazza ti rompe tutto stati fermo mortacci calmo ok ragazzi ci muoviamo qua ok vai allora guardatevi l'organizzazione delle ceste ok non me lo ricordo più io vado io vado col cannon della leva raga ok 3 2 1 cazzo prendete tutto troppa roba dai zio giù ciao 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 perché ho una tnt ma che cazzo perché non l'hai ripiazzata ma guarda questa vabbè via ok ci abbiamo fatta raga allora uuuu quanta roba ok adesso è un attimo ah ma qua sotto c'è una cesta l'olio grande allora raga un attimo eh in una cesta mi sembra c'era una cesta all'interno eh prendetela ce l'ho io ce l'ho io la cesta ecco eh metti l'acqua sopra dove qua eh ti cospetta cos'è una squadra che c'è lì io mettiamoci dentro quello che ho preso casco vendoli a te l'altro casco vendoli a te l'altro casco vendoli a te l'ho prendo io questi cui lo mettiamo dai milioni di rompo le vostre con il vostro la paremia c'è anche questo io ok quindi anche dei saper inghi aspettavano da fine ok perfetto ah raga ma qua c'è per la mappa della mappa guardate io lo so di no ma non me ne raccorta ah aspettate vado a prendere la cesta questa cosa che sta acqua nascosta troppo per caso ecco la che vedete diamo oro con me e buona ossa e c'è il fatto che la vita va giù va giù ok o io lo so io lo so io lo so sinistra o avanti cosa aspetta non vediamo quella cosa perchè c'è dei cartelli scritti dove la pisto dappertutto se sei avesse qualsiasi qua c'è un artefatto chi è che ha preso la spada io ottimo che ciao ma sharpness 1 efficienza 1 knockback 1 un breaking 1 ok allora tu ci devi difendere dai mob ragazzi non faccio salti perchè io non sono bravo a parkour qua lasciamo tutto con me un altro artefatto grande grande c'è questo bastoncino è knockback non l'ho capito oh guardatela oh ma c'è la cesta si si vi puoi vedere l'isola di là grande ma quanti cazzo tutti sti coloranti no vabbè i coloranti li lasciamo qua tanto non ci servono prendiamole prendiamo giusto i cocoa che ci possano servire qualche lapiscassolo e basta e basta che cacchio ci serve prendiamo un po' di questi no tanto poso le robe vanno a metterle nella cesta la sua poi ce l'abbiamo portata di mano nel cazzo ci servono si infatti si si metterle nella cesta comunque raga allora questo qua per eh cos'era questo aspettate tipo i i traguardi c'è dobbiamo fare un gold block un gold block un gold block si esatto ah ok a posto ebbiamo vedere l'alimenta questa cesta ah qua c'è un libro raga aspettate che lo leggo si è ciao allora please check out ma youtube ha fatto quello dell'account di youtube ciao ciao bello eh viate del cibo perchè c'è una torta qui cosa viate del cibo tieni se ho messo lì intanto lo tieni do qualche cosa e tieni e tieni corvitz lo sei finito corvitz dietro di te forse forse ma non lo dici oh dipendiamo raga l'avanti o dietro no dietro no dietro no andiamo in avanti dai dai che c'è qualcuno cazzo qualcuno ti prego no aspetta raga raga io vedo già un mob spawner comunque si si ci sta ma aspetta allora nelle regole c'è scritto in noi non possiamo piazzare i blocchi alla fine perchè non c'è scritto quindi possiamo anche scusate prendiamo un po' di terra eh eh giusto mi sembra giusto ma ci vuole tanto buona raga un'altra cosa e un po' di ferro un po' di oro che si sembra ma mi pare che gli obiettivo sia anche un tipo così c'è un'altra cosa vedi nonви non perdere i nostri aperti ecc infatti pose alla spada perchè abbiamo un'altra cosa fa oh aspetta aspettate l'epes EuhGolta là sotto la cesta vero si ok oh ma la c'è del ferro dobbiamo scavare dentro sta cosa poi bloggh bro prendiamo un po' di terra così il senso infatti no ma io ho con quello che cos'è sto coso sto show suonato video non lo so aspetta non è chiaro perché di questo grosso guardate la che basta davano messo adesso il pezzo da la sede in modo che quando ci vuoi sera subito cadela se non è voluto è un obiettivo mi pare che sia anche quel del corso dei ponti sì sei un pezzo di porca bestia prego dimmi che hai posato la io la rompo il dungeon eh no aspettate no no meglio di no perché vedete che di là c'è scritto mob soul eh con quelle là noi possiamo andare a poi lo shop per comprarci gli oggetti a questo qua serve che figata quali? le mob soul di là che si fanno ammazzano di mob quindi ti prego check dimmi che hai che hai preso che hai posato la nostra spada artefatti si tranquillo ok grande ecco perché adesso ancora oggi eh non lo dovete buttarli sotto minimo dovremmo farci qualcosa attenzione 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 che cadetti qua eh ma qualcosa che mi ha avuto vabbè vieni rompere il cazzo vinci alla ci sono i cosi che le tre fa più difficile ciao oh prendo un puniterra raga aspetta forse l'avete oh ma qua c'è del ferro eh dobbiamo fare un po' di pietra comunque dove c'è del ferro? da sotto no non vorrei che la cesta segreta fossero già finire mi sembra un po' assurdo no 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 che tiro ecco come salgo il dilemma aspetta poi andiamo un po' di tempo oddio allora comunque raga 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 eh noi adesso quando dovremmo fare tipo la cobra sto così la faccio senza registrare perchè non ha senso fare l'episodio mentre ci vedete che noi piccoliamo la cobra eh infatti eh intanto faccio tanto faccio il generatore di cobra vai vai che io so fare noi intanto uniamo i ponti si si ok ma ma quante botte che gli arrivano sto qui quante botte porca bestia d'arte che è già morto due volte c'è quanti botte allora lo faccio la faccia che lo vanno non capisco eh zio non lo vedo ma raga lo faccio lo faccio qua ma dove vuoi ma si non non c'è non si può rompere sto mob spona no no se no beh non possiamo più fare roba per il show no roma oh cazzo cadendo minchia roca tutto praticamente e' come se qua oh raga e in teori si può fare la crafting table si si in teoria si ah bello prendete lene che io mi do sito si faceva in questo modo con pieno di anni vero un po' compatti qualcosa di conseguenza non lo so non credo la c'è uno schermin che ha paura di andare dalla credo che mi non è sbagliato è sbagliato rispetto che si scioglie il quale bloccato sciocca si rompono se lo più che non ti sei è fatica del coso la pace la vita la pasta se io non c'erano i secchi mi pare occhio ora facciamo un buco di qua e uno di qua che se solo ci fosse il block breaker mamma mia allora ne facciamo intanto due generatori a questo punto a questo punto oddio ragazzi che ti teniamo nel nether no 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 e ti sei così facile eh infatti continuiamo a fare il ponte no giusto il problema è che non so dove prendere la terra eh poi io non so dove prendere la coble qua aspettate vediamo se funziona aspettate no aspettate non funziona dobbiamo mettere per forza l'altro di qua no sei un navo non è possibile non è possibile mamma santissimo non è porca bestia non ci credo eh non ci credo quante volte mamma mia quante volte di massacro vabbè rega cioè lì possiamo andare proprio qui attaccato guardate cioè no scherzavo o che cazzo ok raga qua funziona fuck no no aspettino no non è così tante volte ma non so occhio ragazzi no sia che funge fungia lasciamo a cercare le azioni pericolose si è infatti tanto è il più sacrificabile si ok qua aspetta un po' di questo cazzo aspetta io piace un po' di alberi per fare la legna perché sennò che infatti no dai però è vero che poi lì c'è la lava la coppia ma se a testa la lavata che sei bravo chiede l'abilità per prendere i cabbi che merda per cosa mi dice che non hai mai fatto una custom up no l'ho fatta qualche volta però sono sempre morto dopo il secondo livello un po' che aveva livelli cosa no no si alcune mappe quelle che ho giocato io andavano a livelli tipo a livello 1 c'era una cosa a livello 3 un altro un po' una merdata diciamo eh me l'ha dato un po' di cable cable eh non ce l'ho io cioè adesso mi devo fare il più eh me l'hai tu me l'hai tu corvix e faccio una fornace un po' di coble che ho preso no ok comunque aiutare di finirlo questo episodio vatti aspetta si facciamo giusto il ponticello aspettiamo qualche zona poi lo terminiamo dai io sto ho preso sto prendendo un po' di iron buono buono come cazzo fa con il iron è qui dove? si ma non lo usiamo per farci piccoli o ste cose appunto diciamo dove faccio i blocchi di ferro infatti si si dieci ne ho presi quindi lo metto qua poi un blocco di ferro lo invocete eh allora aspetta è lì quanti blocchi circa se un altro e posso andarci eh allora 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 ragazzi eh faccio vedere che vado in quel posto qui e poi basta venite anche voi aspetta dove? chi? eh c'era le cose per tornare indietro poi mince questo mi salta oh cacchio eccolo la ha fatto lo zione vabbè ha fatto lo zione oh quanta roba che cos'era quella cosa? oh si si scappiamo subito grandiosi aspettiamo giriamolo posto con rotto flash oh no raga lo spawn di silverfish eh ok scappa rompilo rompilo io come faccio a scappare di qua l'ho rotto l'ho rotto l'ho rotto ok grande io ho finito il ponticello eh c'è un silverfish le dove? ottimo lì uccidetelo cazzo dove? lì no vieni qua vieni qua qui c'è del ferro però non lo prendo aspetta vieni e me anche qua non si riesce a passarseno ok aspetta che qua ragazzi ah si te l'ho ok vieni che hai lanciato degli uro ci vedi ci vedi molto bene mi dicono eh vedo capito battuta ahah ahah cosa? niente oh due ender pearl la ma la palla che ho trovato dici che è una manufatt la palla allora se ci iscriviamo passamela tutte le cose incantate sono a manufattina andystone shower vediammela dai vediammela dai è nella cesta cazzo sta ah qua eh eh boh vabbè noi però non lo utilizziamo comunque dai ah si 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 è una cosa è fatta eh 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 già vi chiede qua di ponticello che avete fatto l'ho fatto io eh bello già perfetto ok dai eh io ti rifirò qua questo episodio si è anche ma che cazzo si si chiede da uno spugno non lo so è giorno ed efficiente hai ragione cazzo ok quindi raga dai questo episodio è finito eh eh spela a tutti i ragazzi no aspetta 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 perchè li cacci subito vedi che sei infatti io li cacci subito molto per soldi quindi raga allora spero che questo episodio vi piaccia o vi sia piaciuto la stessa cosa no vi sia piaciuto vi piace bla 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 eh vi invito a mettere mi piace eh a iscrivervi nei canali in descrizione eh raga cosa vi posso dire son bello ahahah cosa c'entra eh cosa c'entra eh vabbè dai basta raga no aspetta devo più ma che stai facendo sono arrivato all'altra isola raga sono un po' ma facciamole insieme queste cose no non le faccio ma qual'è questa altra isola oh qui raga vabbè dai lo facciamo il do perchè sennò si infatti voi raga direi che per questo è tutto ciao infatti Grazie.